Silvia, si preparino al Tadami 3, Tosfodi, Filimbo e il Ventil, Jacopo. Si preparino tutti... Tadami 2 si preparino, Nicoli, Diego, Marconi, Lopes. Lettifico la preparazione, tra 5 minuti iniziamo con i sovieti B femminili 63 kg, i sovieti B femminili 63 kg, tra circa 5 minuti. Sovieti, Tosfodi, Filimbo e il Ventil, Jacopo. Vincere Orlando Alessia. Orlando Alessia, delta classificata, Rosicchio, Gloria, Stamper, Silvia. Stamper, Silvia. Mentre si preparino, momenti in Tosfodi, Passo, Cristiano. Allora, su Tadami, Rosicchio, Gloria, Bianca, Stamper, Silvia, Rossa. Si preparino per il 63, Bellano, Nausicaa e Cannelli e Leonora. Vincenzo, Tosfodi. Su Tadami, Corinti, Tommaso, Passo, Cristiano. Buongiorno, Passo, Cristiano. Buongiorno, Alberto. Buongiorno, Passo, Cristiano. Buongiorno, Passo, Cristiano.